Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, quest'oggi, mentre gironzolavo per i gruppi Facebook inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, come faccio di solito, mi era capitata sott'occhio una immagine che conoscevo già molto bene. Parlo di questa vignetta del gruppo Kukriniški. Il gruppo Kukriniški era un collettivo di artisti sovietici che si occupava di fare satira e propaganda. Insomma, siamo sinceri, fare satira e propaganda, fare satira soprattutto nella Russia di Stalin, non era propriamente salutare, siamo sinceri, però questo collettivo di artisti, questo collettivo di disegnatori e di, ripeto, insomma, questo collettivo di artisti, ci riuscì. Riuscì in maniera mirabile a riunire le direttive di partito, l'ironia, l'intelligenza, la propaganda e il fine del messaggio che si intendeva lanciare con la propaganda. Questo manifesto, questa cartolina intitolata La metamorfosi dei fritz, è, oserei dire, illuminante dello stile del gruppo Kukriniški. Guardate bene, Hitler, rappresentato, come vedete, ben rappresentato nella sua foga di comandante in capo, rappresentato, caratterizzato molto bene in maniera classica, se vogliamo, indica ai suoi soldati la via verso Oriente, la via verso la Russia, soldati che marciano nella neve, si trasformano nella svastica nazista e poi in croce. La tomba, la metamorfosi dei fritz. Cioè, questo manifesto io lo trovo estremamente interessante perché è, secondo me, uno dei migliori di quel collettivo, uno dei migliori esempi di propaganda sovietica. Non c'è la roboante e marmorea immagine tanto cara alla propaganda sovietica. Allora, mettiamola così. Se voi avete presente i classici grandi film sovietici, i classici esempi di propaganda, di filmografia, di fotografia sovietica, immagini scolpite praticamente, se vogliamo, nel marmo. Cioè, immagini scolpite nel marmo, immagini che quelle tipiche della propaganda sovietica che davano l'idea di una, come dire, di una marmorea e forte determinazione della potenza dell'immagine, insomma, della potenza dell'immagine tipica della cultura sovietica. Il gruppo Kukrinischi, invece, usava magistralmente l'arma dell'ironia, con risultati eccezionali, se vogliamo. Io credo che questa vignetta, che questa immagine, questo poster del gruppo Kukrinischi sia uno degli esempi più riusciti di propaganda sovietica. paradossalmente, cioè, notate bene, paradossalmente non c'è neanche odio verso i soldati tedeschi. I soldati tedeschi marciano verso la loro morte, trasformati in anonime svastiche e in ancora più anonime tombe. Non è tanto Hitler che sta qui sullo sfondo, insomma, che sta qui in primo piano con un gesto che ricorda vagamente quello del Cristo nella vocazione di San Matteo. No, il punto focale, secondo me, di questa immagine sono i soldati. Cioè, guardate bene i soldati, come vengono rappresentati i soldati tedeschi. Non fieri conquistatori e neanche brutali assassini, perché, insomma, però siamo sinceri, quello furono i tedeschi in Russia, brutali assassini. Lo sapete anche voi, il General Plan Ost o il piano Unger parlano estremamente chiaro. Ma, insomma, torniamo un attimo all'esame di questo manifesto. Cioè, ripeto, guardate bene l'immagine dei soldati. Non sono fieri guerrieri, non sono mostri assetati di sangue, sono uomini tristi, stanchi, avviliti, che sanno di marciare verso la morte. Non c'è neanche odio in quest'immagine. C'è un personaggio grottesco che spinge alla morte dei poveracci che diventeranno anonime tombe nelle pianure russe. L'antico detto che vuole la Russia protetta da tre invincibili generali. Il generale Spazio, il generale Fango, il generale Inverno. E questa immagine, questa cartolina del gruppo Kukriniški, la rappresenta con mirabile forza, veramente, con ironia e al contempo forza e potenza. Credo che sia uno degli esempi più riusciti di propaganda sovietica, se vogliamo, nessuna parola, nessuno slogan, solo l'eloquente, l'eloquente forza di un'immagine, un dittatore che manda alla morte dei poveracci. Ripeto, non c'è odio in questa immagine, c'è soltanto la constatazione che la guerra non è gloria, è morte. Tutto qua. Quindi, cari signori, io, come sempre, aspetto le vostre considerazioni su questo manifesto del gruppo Kukriniški. Come sempre, ripeto, sono in attesa delle vostre considerazioni. Di nuovo, arrivederci al mio prossimo video. E come sempre, ciao! E soprattutto, signori, buona Pasqua. Grazie ancora e buona Pasqua ancora, veramente, di tutto cuore. Ciao ragazzi!